Ritiene gravi, così come ha detto la difesa, che sono preoccupanti le dichiarazioni di Salvini sul caso Hezbollah, definito come terroristi islamici. La difesa dice che il ruolo è super partes, quello dell'Unifil, che dovrebbe mediare tra le due posizioni. Lo è, è una delle missioni di pace più importanti che abbiamo nel mondo e soprattutto come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre citato quella missione di pace come vero modello di missione di pace, super partes. Quello che si doveva dire sulla vicenda l'ha detto il Ministero della Difesa, io mando solo un grande abbraccio ai nostri militari che sono lì, gli dico di tenere duro e di andare avanti. Grazie.